Davide Scotti, Saipem. Ci troviamo oggi qui in sede in Aias, in quanto voi come Saipem avete vinto il primo premio per Aias Eccellenza nella Prevenzione, nella categoria Approccio Innovativo alla Prevenzione e alla Sicurezza. Perché avete vinto questo premio? Perché sicuramente è stato un approccio innovativo, quello di ingaggiare migliaia di persone nella nostra organizzazione, in Saipem, usando strumenti di comunicazione non convenzionali, per ingaggiarli proprio sui temi di salute e sicurezza sul lavoro. Ogni anno, il 28 aprile, che è la giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, creiamo dei contest proprio con questa finalità, usando i trend del momento. Qualche anno fa abbiamo fatto il contesto di flash mob, chiedendo proprio alle donne e uomini di Saipem, in tutti i progetti di tutto il mondo, di organizzare dei flash mob sulla salute e sicurezza sul lavoro. L'anno dopo abbiamo usato il linguaggio dei selfie, perché andavano di moda in quel anno lì i selfie. E quest'anno, forse è stato l'anno più straordinario, proprio in termini di numeri di persone ingaggiate dall'iniziativa, abbiamo utilizzato la canzone Safe and Sound dei Capital Cities, che è una canzone molto bella, che tutti conosciamo, e il titolo, Safe and Sound, letteralmente vuol dire sani e salvi. E quindi abbiamo chiesto alle nostre persone di fare dei videoclip usando questa soundtrack. Qual è la risposta? La risposta è stata straordinaria, abbiamo avuto 46 video da tutto il mondo, migliaia di persone coinvolte, c'è stata una commissione interna, ovviamente in Saipem, che ha premiato i vincitori. E oggi questi video sono tutti online, sia attraverso la comunicazione interna in azienda, ma anche comunicazione esterna sul canale YouTube della Fondazione Leadership and Health and Safety, costituita proprio da Saipem qualche anno fa, con l'obiettivo di portare anche fuori dall'azienda questi strumenti, questa passione per la salute e sicurezza sul lavoro. Quindi passione, motivazione, coinvolgimento. Esatto, queste sono le parole chiave sicuramente. Oggi se vogliamo migliorare veramente i numeri legati agli incidenti sul lavoro, sia a livello industriale ma anche a livello italiano, ogni anno abbiamo 900 persone che perdono la vita nel nostro paese, dobbiamo fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, dobbiamo anche cambiare il modo con cui si comunica questo tema. Quindi innovare.